mara venier stravolge domenica in e introduce importanti novità in vista della prossima stagione a comunicarlo sono i canali ufficiali rai lo ha detto e alla fine lo ha fatto davvero mara venier aveva infatti comunicato tempo fa la sua volontà di voler rinnovare completamente il format di domenica in in modo da rinfrescarlo e donargli nuovo appeal e non è passato molto tempo da quando i rumors sono poi diventati certezze ad annunciarlo sono i canali social ufficiali della rai che hanno pubblicato tutto quanto serve sapere per poter prendere parte al nuovo contenitore televisivo che troverà spazio all'interno del programma domenicale che da decenni tiene compagnia ai telespettatori di rai 1 zia mara è pronta quest'anno la domenica pomeriggio sarà tutta sua vista alla grande assenza della sua nemica amica su canale 5 barbara d'urso la veniera è pronta a dare spazio ai giovani e a cimentarsi nella conduzione di un format che si avvicina a quello dei talent si chiamerà i fantastici della zia mara e sarà uno spazio dedicato ai giovanissimi che hanno voglia di mostrare il proprio talento nella speranza che qualcuno li noti cantanti ballerini artisti di ogni tipo la rai chiama raccolta basta andare sul sito rai casting per capire come fare per iscriversi alle selezioni e partecipare allo show in diretta ogni domenica pomeriggio su rai 1 a partire da settembre un'occasione imperdibile e un palcoscenico importante che potrebbe diventare trampolino di lancio per tante carriere basta prendere tempo l'occasione della vita potrebbe essere questa i casting sono già aperti